Amici bellini, buon martedì, vedo dal calendario che è martedì, ci siamo, siamo in vigilia, che bello, io ribadisco, che bello avere la conferenza pre-partita, capiamo delle cose, possiamo sentire, possiamo tastare il polso del nostro mister, poi le domande adesso le analizziamo, però con calma andiamo a vedere tutti i punti e i contropunti, perché se ne sono parecchi, di questa conferenza Cominciamo E' un martedì pazzesco, rumori incredibili Allora, ringrazio e saluto Giuseppe Mele, benvenuto, iscrivetevi al canale anche voi, i nuovi, i nuovissimi, i anziani, io ringrazio anche quelli però della prima ora, perché i nuovi benissimo, benvenuti, sono Valerio Fluido da New York, ma quelli della prima ora sono i miei eroi Quindi va bene, ma è solo questione di algoritmo, qualcuno ci è capitato per caso dopo, qualcuno prima, va bene così, è una community e quindi io sono orgogliosissimo Lasciate il like, ah, mi siete dimenticati il like, lo sapete che il like è importante Allora ragazzi, un paio di considerazioni su questa conferenza Allora, prima di tutto io ringrazio il resto dei canali YouTube piccoli e grandi che sono, che lavorano per il Napoli indipendentemente, cioè Napoli Podcast, altri canali, Bianco Azzurro, insomma tutti quelli che per chi come me all'estero magari durante la conferenza era ancora a letto e non ha potuto sentire la radio ufficiale E loro raccolgono e mettono online e mi permettono di fare meglio questo lavoro, sempre tra le virgolette dei coniglietti Quindi ringrazio gli altri canali YouTube E peccato, insomma, che il Napoli non l'abbia messa dal vivo, dal vivo su YouTube la conferenza magari sul canale ufficiale Sarebbe meglio farlo sempre Continuità, io le vedo, le vedo le cose dove stiamo migliorando a livello social però Adesso diamo continuità, caro Napoli, perché così siamo più squa- Shape of my heart Gran pezzo tra l'altro, rispetto E però che esagerazione! Va bene tutto, almeno il pezzo è un pochino più di qualità rispetto a certa musica di- Te ne vai? Mi demonetizzano il canale Va boia Come a Messico 86 Se mettete Messico 86, perlomeno, fa parte delle mie canzoni Allora, ragazzi, andiamo a parlare di questa cosa Parto dall'ultima domanda Perché Spalletti dice Anzi, non è una domanda, è una cosa che aggiunge lui Visto che non me l'avete chiesto Fiorentina e Napoli, i tifosi, mi dicono che ci stanno, insomma, delle... Delle scaramucce tra tifosi e rifoserie che non si amano I tifosi sono gemellati, a prescindere dall'amore che hanno per le proprie squadre Ragazzi, questa non è una cosa banale che lui dice Perché dice, sono due città dove quasi il 100% Purtroppo Spalletti a Napoli non è il 100%, però non abbiamo altra squadra cittadina, questa sì E dove la passione è tutta canalizzata verso una squadra È uno spreco tifare contro, tifare contro il nemico Dare segnali di odio È uno spreco di energie che potresti riversare tutto sulla propria squadra Non è una cosa banale proprio oggi che mi dicono La Salernitana che ha vinto la prima partita e noi facciamo i complimenti per una squadra del sud vicina Che non riusciamo a chiamare cugini perché mi dicono L'amico Bellino su Instagram, Raffaele, mi fa sapere Che ci sono stati i soliti cori Napoli-Colera durante la partita così Quelli poi più vincono e più... Ah, Napoli-Colera! Cioè, tutto il contrario Invece di dire viva Salerno e viva la Salernitana Sfoghiamo Napoli-Colera Malissimo, malissimo Proprio non volete essere nostri amici Noi non è che quando vinciamo le partite diciamo Salernitana-Pisciaiuoli Per esempio, come di solito si usa di Non credo proprio che ci interessa questa cosa qua Quindi vi ha risposto Spalletti Grave, 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 grave Smettetela Noi vogliamo, noi ci auguriamo Che un'altra squadra del sud possa rimanere in Serie A Perché dobbiamo far crescere tutto il sud Come sistema calcio Perché altrimenti vincono sempre quelle squadre là Il centro del potere sta lì Sotto Roma non succede niente E invece no Tra di noi, vabbè Quindi, sono molto molto deluso Spero che questa cosa cambi Non vedo come Non vedo Servirebbero degli interventi organizzati dall'alto Ma non vedo come è possibile Vabbò Chiusa questa parentesi Si allena la testa o le gambe Dopo una partita del genere E Spalletti ci dice Si deve fare l'analisi Della partita con lo Spartak Si deve analizzare quello che non è andato E poi si tenta di fare l'analisi Della partita che arriva Quindi si cerca di fare un po' tutto Ovviamente ci ribadisce C'è poco tempo per farlo Si deve fare una sintesi Ricordiamoci quando gli altri allenatori Hanno detto C'è poco tempo Sai proprio stracciare tesserini Lo dice anche Spalletti C'è poco tempo È un calcio diverso È un calcio veramente assurdo Per ritmo così Però la squadra è forte abbastanza Perché ha un'identità E quindi a prescindere dall'avversario Si cerca di fare quello che si deve fare Questo è quello che poi ci dice Spalletti A prescindere dall'avversario La Fiorentina è la squadra più difficile da affrontare ora Spalletti ci dice niente di scontato Basta un episodio Poi alla fine riprende il discorso dello Spartak Dice tu stai in controllo totale Poi basta un episodio Come quello dell'espulsione Cambia completamente tutto il volto della partita Quindi all'interno degli episodi singoli Sono anche le letture che poi determinano L'andamento della partita E ci dice la Fiorentina È una squadra forte Mi sorprendeva prima Quando non riusciva a stare in zona europea Adesso non mi sorprende Tra l'altro mi dicono Non lo so Ma pare Insomma Spalletti sia Tifoso della Fiorentina Dichiarato E quindi in un futuro Magari a fine carriera Andrà la Fiorentina Non lo sappiamo Sappiamo che è un professionista Che vorrà portare i tre punti Nella sua squadra Che in questo momento è il Napoli Spettacolo efficace Ah Questo è il premio Che ha avuto Spalletti Come miglior allenatore del primo mese Della Serie A Per un Napoli Spettacolare ed efficace E quindi Se queste sono le motivazioni Dice io le devo condividere Non è merito mio niente Devo condividere con lo spogliatoio E non solo lo spogliatoio Anche con tutto lo staff Lui dice io Maglietta sudata Poi dopo gliela do Me la piegano E me la fanno trovare asciutta Bella sistemata Quindi condivide Tutti i meriti Con il resto Con tutta la società Con la squadra in seconda Eccetera eccetera Umile Umiltà Giusto Si allena il Killer Instinct Bellissima domanda Di Antonio Giordano Che A cui faccio i complimenti E Spalletti Risponde E non risponde Perché comincia subito A parlare di Osimen Quando in realtà La domanda di Antonio Riguardava Quelli Gli altri Probabilmente Perché Petagna viene meno Sottoporta Dove magari Con un Killer Instinct Bello sviluppato Tu facevi 2 a 0 Oppure Zeninsky Che sappiamo Io adoro tantissimo Però Spesso Gli capita Di alzare Un pochino La mira E quindi Lui comincia A parlarci di Osimen E Alla fine Ci conferma Che uno cerca Di allenare Magari la posizione Farlo trovare In posizione Più logica Per segnare Però il Killer Instinct È una cosa Che tu o hai O non hai E questo è Evidente Indubitabile Quindi la posizione Di Osimen Cerca di metterlo là Perché Osimen Piace Spaziare un pochino Troppo E magari potrebbe Farsi trovare Più in zona goal Quanto spalletti C'è in questo Napoli Abbiamo già detto Ho allenato Ho allenato Ho allenato Altre squadre Non sono Alla prima Alla prima Occasione Della mia vita Ma ho trovato Una squadra Già lavorata Una squadra Già lavorata Quindi Poca roba Di me Però Ho allenato Significa Ci sto portando L'esperienza Che ho avuto Goulam C'è Goulam Ce lo portiamo Ho visto la distinta Completamente Convocato Speriamo Anche perché Ragazzi Vedete che Io qua Sono pronto Anche con la lavagnetta Facciamo Facciamola già vedere Così non ve ne uscite da questo video Perché questa è un'ipotesi mia di formazione Goulam c'è Quindi l'ho messo Tra Come primo sostituto Di Mario Lui Speriamo di poterlo vedere Già in campo Poi si chiede la Coppa d'Africa E Spalletti ci conferma Che ADL Vorrà lottare Per non Perdere tutti questi giocatori Perché abbiamo tutto Un impianto Di gioco africano Perché giustamente Lui li paga Poi te li tolgono Chissà come ti tornano Chissà per quanto tempo Te li portano via E insomma Lui è Unì Si unisce a De Laurentiis In questa lotta E speriamo che qualcosa si possa fare Non so cosa si possa fare Perché comunque Eh la FIFA Deve fare le partite Così Veramente non lo so Poi si parla ancora Del dualismo Meretto Spina E di Mertens Ancora una volta Ci conferma Che anche quest'anno Non c'è un titolare stabilito Si andrà per meritocrazia Chi fa un pochino meglio Sono tutti e due Portieri fortissimi Quindi Spalletti molto Diplomatico in questo E anche Sudris Ci conferma Che è pronto E che avrebbe voluto farlo giocare Già con lo Spartak Però la partita poi si è evoluta In un'altra maniera E quindi ha fatto delle scelte diverse Per recuperarla Questo mi dispiace Perché Quando vuoi recuperare una partita Mertens ti può anche servire Ti può risolvere una partita Con un dribbling Con un calcio piazzato È uno dei pochi Che sa che ha uno score decente Sui calci piazzati Però io Insisto Era una partita di calci E quindi non era la partita Per Mertens Il VAR Serve Punto Proprio Semplice Semplice Se ci pressano Come si fa La verticalità Eccetera Eccetera E Spalletti Ci dice più cose Ci dice Bisogna girare la palla Più veloce Se ci attaccano Perché probabilmente Con la Fiorentina Questo avverrà Noi ricordiamoci un pochino Anche la partita Con lo Spezia Dell'anno scorso Dove il Napoli Una la perde per sfortuna Perché siamo stati Troppo sfortunati Quell'altra molto meglio E quindi L'attacco Poi della profondità Con una difesa Bella alta Ovviamente Devi girare palla più veloce Devi essere più preciso Devi avere coraggio E personalità Se ti attaccano Di non andare nel panico Perché se ti attaccano E vai nel panico così E poi Osime deve anche Venire incontro Se ti rendi conto Che non possono Non può ricevere Una palla pulita Perché ti hanno attaccato Magari dai un'altra soluzione Venendo incontro Palla più facile Per Osime Poi la devi mantenere Devi scaricarla E poi si può pulire Il passaggio Con l'inserimento Dopo Ci sono le soluzioni Bisogna semplicemente Fare le cose bene Le soluzioni Spalletti te le dà Adesso sta ai giocatori Metterle in pratica Sul passaggio Che ci disse K2 Avevamo forse Già la testa a Firenze Spalletti dice I calcoli Li posso fare io Non loro Cerca di contestare Questa cosa Dice non credo Che insomma La squadra Avesse la testa a Firenze Comunque sia Che tu avessi vinto Con lo Spartak O avessi perso Con lo Spartak Sempre la Fiorentina Dovevi andare a trovare Sempre una squadra forte Dovevi andare a trovare Quindi questo Non dovrebbe cambiare Il modo in cui Anzi Dice adesso Che abbiamo perso Si cerca per forza Il fatto La rottura Dell'incantesimo Si deve giustificare Perché si è rotto L'incantesimo Semplicemente È un fatto Anche statistico A un certo punto Il Napoli Qualche partita La deve perdere Non c'è dubbio Però perdere Ci fa capire Spalletti Che non aiuta Poi a raffrontare La prossima partita Quindi quelli che dicono Ancora Usciamo dall'Europa Perché ci concentriamo No Il rumore della sconfitta Di cui parlavamo Anche con Guido Gentile Me l'ha fatto vedere Un altro amico Bellino su Instagram L'uscita di Anghissà Dal campo Dove Nervosissimo Sbatte i pugni Contro il Plexiglas Quello è il rumore Della sconfitta A nessuno Fa piacere perdere Non può mai aiutare Una sconfitta Assolutamente Si possono analizzare Le cose Si può migliorare Ma una sconfitta Fa sempre male Contro chiunque Dopodiché Lui chiude Con Col discorso 100% Tifosi Fiorentina E Napoli Signori miei Io metto la squadra così Credo Che si possa rivedere Ospina in campo È una sensazione mia Anche perché Meret In colpevolet Sulle Sulla Se avesse fatto Una papera Meret In quella partita Con lo Spartak Probabilmente Lo avremmo rivisto In campo Proprio per non Fargli perdere fiducia Dato che è stato In colpevole Secondo me Si possono ancora alternare Io credo Che è proprio così Di Lorenzo Ovviamente Deve stare lì Mi sarei sorpresissimo Di non vederlo titolare Potrebbe rientrare Rachmani Anche se Manolas A me Non è dispiaciuto Però in questo momento Si stanno alternando I due Quindi facciamo anche Rifiatare K2 Non si tocca Mario Rui Credo anche in virtù Dell'espulsione Si è riposato un poco Quindi comincerà lui Speriamo di vedere Kulam Anche per fargli assaggiare Un po' il campo Giocatore che ha assaggiato Un po' il campo E che poi si è riposato In coppa È proprio Demme E io credo Che in questo caso Potremmo rivedere Demme E far riposare Un attimo Fabian Perché anche Fabian Le sta giocando tutte E non è plausibile Non è proprio pensabile Quindi Demme qui Che può essere Vertice basso Del 4-3 E lo sappiamo Ma può tranquillamente Giocare a 2 Con Anghissa Demme ha le caratteristiche Per essere regista E per stare anche Addosso agli avversari Demme è un piccolo Per me È un piccolo Centrocampista ideale Nel senso piccolo Anche fisicamente Ma ha un pochino Tutte le caratteristiche Che servono In un centrocampo a 2 O anche a 3 Per me può fare pure La mezzala Però questo è perfetto Rivedrà i zielischi Visto che Spalletti dice Comunque deve giocare Per prendere minutaggio Dato che Elmas Ha speso molto Posso immaginare Zielischi Titolare Insigne non si tocca Solito ballottaggio Lo zanopolitano Magari ci mettiamo Lo zano subito E o Simen Punta centrale A questo punto Io lo scrivo anche Per Per chiamarmelo Questo cambio Vorrei rivedere Mertens in campo Rivediamo Kulam Convocato Spero di vedere Demme Insomma ragazzi Adesso È chiaro È una partita Che poi ti porta Verso la sosta Poi ci saranno Nazionali Eccetera eccetera Vediamo Vediamo Si può fare L'ultimo sforzo Anche con i titolarissimi Però dobbiamo stare Molto molto attenti Perché la Fiorentina Lo sapete È una squadra temibile Che ha cominciato Molto bene Che ha aggiunto qualità L'allenatore È in gamba Però l'allenatore Le ha prese sulle orecchie A livello proprio di Di prestazione Contro il Napoli Se si prende Gli stessi rischi La differenza La possono fare I giocatori in campo Un Milenkovic Ti può Contrastare Osimene In un certo modo Un Vlaovic Può mettere in difficoltà La nostra La nostra difesa Vediamo A centrocampo Come si Si comporteranno Ambra bam Ambra bat Chissà se giocherà E ci guarderemo Questa partita Con fiducia E con speranza Di fare un'ottima prestazione Perché altrimenti Poi dopo Spalletti out Per 15 giorni Si deve parlare Si è rotto il giocatt I zigni Il contratto Che questi giocatori Non sono puni E l'allenatore Ha fatto delle scelte Perché poi Noi siamo stati equilibrati E tranquilli Anche nella scelta Di sostituire In signe Che io intravedo Insomma anche Una causa Che poi il Napoli Non è riuscito A ribaltare la cosa Perché in signe Ti aiuta tantissimo Nella costruzione Dell'azione E se andate a vedere Le considerazioni Dei giornalisti esteri No Della mia Paramount Plus CBS Eccetera Loro dicono proprio Mi piace Mi piace Che hanno spostato Elmas E non hanno sostituito In signe Così poi subito Sostituisce in signe Perché hai sostituito in signe Ma al massimo Toglievi politano Quindi Giornalisti esterni Al Napoli Si sono fatti la domanda E hanno detto Questo poi Potrebbe portarti Questo durante la partita Potrebbe portarti A delle difficoltà Non hanno considerato Che il Napoli Ha fatto questa scelta Per la Fiorentina Se con la Fiorentina Facciamo un ottimo risultato Bravo Spalletti Hai avuto ragione tu Se poi invece Anche con la Fiorentina Dovessimo steccare L'aver salvato In signe Da una partita dispendiosa Purtroppo Dovrà essere A posteriori Un errore Perché magari Con in signe In campo Non ti giocavi L'Europa League Con una sconfitta Che ti lascia Molto basso In classifica Da New York Valerio Fluido È tutto Fatemi sapere Viva Dem Viva Mertens Viva Goulam Speriamo di avere La squadra Un pochino più lunga E che Dio Ce la mandi buona Per chi crede in Dio Altrimenti l'universo Altrimenti Maradona Ciao Sono Saveria Solita Se arriviamo A 15.000 iscritti Su Youtube È una cosa di cortesia Ma secondo me Dovreste seguirlo Anche su Instagram At Valerio Fluido Fa tutte queste cose Credi Sei iscritto pure a TikTok Niente più Dai Basta Basta Sei cringe One big ol' shit